20 ore in acqua, nuotando nelle acque del Lago Maggiore dal canton Ticino sino a Sesto Calende. E' la nuova impresa compiuta da Federico Troletti, 36 anni, originario della Val Camonica. Vento, onde e un temporale alla partenza non hanno fermato la traversata in solitario del Lago Maggiore del campione di specialità Federico Troletti, 36 anni, della Val Camonica. Sì, dall'inizio è stata tremenda. La partenza da Tenero in canton Ticino, 60 chilometri, una notte e un giorno in acqua, sorceggiando liquidi per raggiungere, dopo 20 ore, la spiaggia di Sesto Calende. 5 minuti di calma pianta e poi è cominciato un bel temporale, onde ho fatto 10 chilometri da surf. Il momento più difficile? Dall'inizio, gli ultimi 20 chilometri, ho cominciato ad avere dolori al braccio, comunque è impegnativa. Anche per un campione non nuovo a distanza del genere, nel 2007 il giro a nuoto di Montisola sul Lago di Zeo, poi la traversata di 26 chilometri, i 54 del Garda lo scorso anno da Riva a Desenzano, ora la più impegnativa mai tentata. Però ce l'ho fatta! Grazie! Bravo, Federico! Bravo, Federico! Bravo! Bravo, Federico! Bravo! 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 Grazie.